bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono GabiSol01 e qui con me c'è? AndreaPokemon1 che sta registrando benissimo allora vi c'ho un coso sulla testa la e questo qua è lo speciale 25 iscritti e devo fare anche il 30 oh mio dio e vabbè questo qua è lo speciale 25 iscritti facciamo che è il 30? ah? facciamo che è il 30 iscritti? no 25 e da un sacco di video ve lo dico quindi è questo qua è il 25 e spero che questo video vi piaccia cominciamo grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.